Parliamo di Shark 2 l'abisso. Ho visto il film ieri e devo ammetterlo anche se l'ho già anticipato su Instagram, che è stata una delle peggiori esperienze in sala. Non tanto per il film, perché comunque non mi è piaciuto, mi sono anche annoiato, tanto più per le persone che si trovavano in sala quel giorno. Delle persone, delle cose in realtà, non direi nemmeno persone, con la testa fallica dalla punta arrotondata, ricordiamo sempre, che hanno deciso per la maggior parte del film, soprattutto nel secondo tempo, di battere le mani ad ogni singola scena e fischiare in modo assordante. Sono uscito dalla sala con un mal di orecchie che non potete capire. È veramente in qualsiasi inutile scena, per esempio posso dirlo tranquillamente, non è spoiler, è una cosa che succede in pochissime, non serve per nulla alla trama, solita scena che si vede in questo tipo di film. Proposta di matrimonio di due comparse, letteralmente, non dici due personaggi importanti a cui in qualche modo puoi essere affezionato, soprattutto in questo film non capisco l'affezione, ma due comparse che non si sono mai viste prima e non si sarebbero viste dopo quella scena. Proposta di matrimonio. Due idioti iniziano a battere le mani e quasi tutta la sala lì a seguirli, a fischiare, a gridare. Ragazzi, no. E questo letteralmente ha un intervallo di cinque minuti nemmeno l'uno dall'altro. Anche scene totalmente inutili, sembrava uno stadio nel giorno no di uno stadio, quindi immaginate. Fatto sta che sarebbe effettivamente servito un cartello davanti le porte del Lucicinema del Forum di Palermo il 4 agosto alle 17.40, questo è lo spettacolo, quindi se vi siete trovati in questa proiezione e avete battuto le mani e fischiato in modo assordante per più di una volta, tutte le parole che ho detto finora sono per voi. Vi ringrazio per questa grandissima visione. Avrei veramente preferito un cartello davanti le porte con scritto vietata l'entrata ai minorati. Probabilmente non sarebbe entrato quasi nessuno, fortunatamente qualcuno con il cervello in sala c'era, quindi non tutti hanno iniziato a battere le mani per così tanto tempo e soprattutto così tante volte, ma a sto punto di idioti in sala ce n'erano tantissimi. Anch'io che mi lamento di una cosa del genere con questo film, vabbè, non sto sicuramente parlando di Oppenheimer o di Asteroid City che non porterebbero questo tipo di gente in sala, Shark era un po' più probabile come cosa, però comunque un comportamento da merdoni. Spero vivamente che questa parte di video, comunque questo video, arrivi a queste persone, voglio che sentano tutto quello che ho detto. Passo a farvi sentire e vedere un estratto del finale, tranquilli senza spoiler, perché è solo l'inizio dei titoli di coda, in cui quello che sentirete è solo una virgola di quello che hanno fatto per tutto il secondo tempo del film. Ecco, davvero stupenda come visione. Ma adesso passiamo a parlare del film. Ho registrato questo video già questo pomeriggio, il pomeriggio del 5 agosto, ma l'audio, non so per quale motivo, è andato a donne di facili costumi, quindi non ho potuto pubblicarlo nel modo migliore. Lo sto registrando adesso, probabilmente a un certo punto andrò anche in voiceover, perché c'è veramente caldo ed è insostenibile registrare un video in questa situazione. Avevo registrato già 50 minuti prima e adesso rifare la stessa durata è un po' difficile, ma tenterò di stare il più possibile anche in cam. Come primissima cosa ne parlo un po' generalmente. A me il film non è piaciuto, mi sono annoiato, come ho già anticipato sia in questo video ma anche nella recensione su Instagram, infatti vi invito a seguirmi lì per le recensioni a caldo. Non mi è piaciuto, nonostante io avessi già abbassato le mie aspettative dopo alcune recensioni della critica importante che aveva già visto il film in anteprima, o comunque nel giorno precedente al mio. avevo provato a vederlo il giorno di uscita ma era letteralmente la sala piena, cosa che poi successe sfortunatamente anche il 4. Avevo nettamente abbassato le aspettative per non rimanere deluso. Risultato? La delusione c'è stata e anche tanto, perché è un film molto noioso per quel tipo di film che avrei voluto. Stiamo parlando alla fine di uno Shark and Furious, alla fine letteralmente l'unione tra Fast and Furious e lo Squalo, Jaws. Volevo il Tamarro, l'azione Tamarra, cosa che è arrivata a un certo punto ma solo lì. Poi per il resto del film è veramente noia, 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 perché non capisco tutta questa voglia dei produttori, comunque di chi lavora a questo genere di film, di Kaiju, alla fine possiamo definirli in questo modo, di concentrarsi così tanto sui personaggi umani. Non me ne frega nulla, voglio vedere i megalodonti, anche perché in questo film sono tre. Non ci sono solo i megalodonti in questo film, nel trailer abbiamo visto che ci vengono presentati anche i dinosauri. Ci sono i dinosauri, sì, ma soprattutto un polpo. Superflui. Già ci sono tre megalodonti di cui uno enorme, perché inserire anche un polpo gigante, una piovra gigante, quel che è, i dinosauri che vabbè non sono giganti, sono piccoli coccodrilli strani, ma che comunque si sente che sono stati aggiunti perché sì, per un motivo, solo per fare la solita soluzione del... Tutto ciò che ha funzionato nel primo è esagerato il triplo, visto che appunto ci sono tre megalodonti in questo film. Che poi in alcune scene sono anche realizzati bene, la CGI è altalenante, in alcuni frangenti sembra anche molto realistica, in altri molto cartunosa. Alla fine sicuramente per la CGI del film non è che mi aspettassi Avatar, però fortunatamente non mi sono trovato nulla di così obrobrioso davanti gli occhi. Preferisco nettamente ancora il primo film, non c'è nulla da dire, io sia alla prima visione, riconoscendone tutti i problemi naturalmente, sia alla prima visione che anche agli altri rewatch, preferisco Shark, il primo squalo, o il primo The Meg, anche proprio per il fattore noia, ragazzi, questo film è una palla. Anche in alcune scene d'azione mi sono annoiato, mi stavo per addormentare. Non ne sono sicuro, ma probabilmente gli occhi li ho anche chiusi, perché non ricordo alcuni frangenti del film, non ricordo per esempio alcune parti del finale, ho anche tutto lo sforzo degli sceneggiatori di farci capire chi siano questi personaggi umani. Si sono concentrati veramente tantissimo sui rapporti di questi tizi e io non li ricordo, non ricordo né i rapporti e non riesco né a distinguere, riconoscere o ricordare gli umani. Zero, non ricordo quante donne e quanti uomini ci fossero, ricordo solamente Jason Statham, probabilmente perché mi sono accecato con il riflesso sulla sua testa, ma è un altro conto. A parte questo, a me Jason Statham prima stava molto antipatico come attore, dopo averlo conosciuto in Fast and Furious, che ho recuperato solamente quest'anno, un po' di simpatia verso questo attore, che comunque adesso, solamente adesso, non si prende così tanto sul serio, l'ho trovata. E infatti anche in The Meg, il primo The Meg, e soprattutto in questo secondo, non si prende sul serio, fa le sue frasi tutte epiche, che risultano ridicole, almeno dal mio punto di vista. E poi sì, in questo film soprattutto, ci sono molte scene alla Fast and Furious. Lui, si vede nel trailer, non è spoiler, lui che con il motoscafo, cavalca l'onda, e non viene preso dal Meg enorme, che sbuca, e vabbè, succedono cose un po' strane, a un certo punto il Meg diventa pure amico di Jason Statham, e uccide, letteralmente a dieci centimetri, c'è Statham e il villainumano, e a prendere il megalodonte, uccide solo il villainumano, proprio si concentra solo su di lui, non distrugge, un pesce enorme, gigante, il più grande di tutti, non distrugge il molo, e tutto quello che si trova lì, e si concentra esattamente in un metro e ottanta, due metri di persona, basta. Un pesce preistorico, ricordiamo. A proposito di morti, alcune cercano di fartele sembrare pesanti, profonde, ma chi è morto? Io non ricordo nemmeno il nome di questa tizia che è implosa. Veramente qualcuno mi deve ancora spiegare tutta questa voglia di approfondire i personaggi umani in film del genere. Boh, non la capirò mai. Nel film sono anche presenti alcune retcon, per esempio non c'è la tipa cinese del primo film, scusate non ricordo i nomi, non ricordo persino come si chiama Jason Statham nel film, quindi immaginate che è l'unico personaggio che mi ricordo. Appunto, non c'è più la madre della bambina cinese, ma abbiamo un personaggio che è letteralmente la sostituzione di quello, probabilmente l'attrice non è voluta tornare per questo sequel, ha la stessa caratterizzazione, ma è suo fratello, fratello che non è mai esistito, non tanto di presenza nel film, ma proprio nel nucleo familiare, non si è mai parlato di questo fratello, hanno retconato qui la roba perché non c'era un buon rapporto e quindi non è mai stato citato, ok, andate a cagare, avrebbero tranquillamente potuto fare un recast, perché veramente si capisce che quello che succede in questo film, non entro nei dettagli, è un'idea che è arrivata così, solo per la necessità di non poter avere quell'attrice. Non so adesso cosa sia successo realmente, ma secondo me è andata proprio così, quindi l'attrice non è voluta tornare, hanno ideato questo colpo di scena off screen, no, no, terribile fate un recasting di quel personaggio se dovesse essere andata così, se invece dovesse essere andata in un altro modo, non capisco questa scelta di dover inserire questo zio mai esistito. Ad un certo punto il film stesso si accorge che non sta succedendo nulla e quindi fa succedere robe a caso, esplosioni a caso che poi vengono anche giustificate in un altro modo con uno dei colpi di scena, maggiormente ce ne sono due dei colpi di scena, ovvero, ve lo dico già uno, la presenza della piovra gigante, che non è un colpo di scena, perché l'ha spoilerato il trailer, il poster, trailer molto spoilerosi a questo punto, perché ci sono delle scene, pare pare, messe nel trailer, che effettivamente dovrebbero essere dei colpi di scena, come proprio la piovra o il polpo gigante. All'interno del film viene tiserato questo polpo enorme per poi appunto fare la sua comparsa come colpo di scena, come plot twist, ma già dai trailer e i poster l'avevano detto, va bene. E poi c'è un altro colpo di scena che riguarda la parte umana del film che, vabbò, non so per quale motivo vogliano per forza inserire tutta questa drammaticità all'interno dei rapporti. Io volevo un film stupido e tamarro, doveva essere un film stupido e tamarro come il primo film e mi sono ritrovato davanti un film che cerca di essere il più serio possibile, almeno nella sua prima parte. La prima ora è veramente noiosa, poi si sistema un po' durante la seconda, ma dopo un'ora di rottura di palle, di quasi addormentarsi, non lo perdono neanche con un ritmo differente nella seconda parte. In ogni caso, comunque, boh, il film finisce, finalmente, dopo due ore che ne sono sembrate 64, e finisce in modo anche ok, forse un po' troppo facile, soprattutto in confronto a come finisce il primo. I presupposti per un terzo film ci sono, se dovesse guadagnare tanto, superando i 500 milioni, sicuramente il terzo lo conferma, sicuramente andranno a esagerare sempre di più, probabilmente nel terzo, o c'è un megalodonte più enorme di tutti che può mangiare la Terra in un solo boccone, oppure ci sono i megalodonti alieni, o si scopre che i megalodonti non sono ex dinosauri, comunque imparentati con le bestie preistoriche, ma sono proprio degli alieni. Vabbè, ragazzi, astronavi, vabbè, sicuramente esagereranno e butteranno tutto nel cesso senza alcun problema. Una cosa devo dirla, prima di chiudere la parte senza spoiler, probabilmente farò anche indignare qualcuno di voi, ma quando questo tipo di film diventeranno realmente coraggiosi? Una volta dire che un film coraggioso probabilmente significava far vedere la morte di un bambino, o comunque così tante morti, quelle ci sono. Ad oggi, invece, in un film del genere, con squali o con mostri in generale, essere coraggiosi, per quanto mi riguarda, a questo punto è far vedere la morte di un cane. I cani si salvano sempre. I cani sono dei per tutti, letteralmente. Anche tra voi sicuramente c'è qualcuno che tutta la sua vita ha detto almeno una volta farei morire 100 persone per salvare un cane. Ne sono più che sicuro. Io queste persone non le posso sopportare. Mi scuso, ma è così. Letteralmente dopo la visione c'è stato un utente che mi ha contattato su Instagram, andatemi a seguire anche lì che vi rispondo sempre, dicendomi proprio questa cosa. Io sono stra d'accordo. Non dico la roba delle 100 persone del cane, ma il fatto che si è lamentato anche lui di questa cosa. In questo sequel, ma anche nel primissimo film, stessa identica scena, concentrati su questo cane che oh no, 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 sta per essere mangiato. Si salva, si salva. Anzi, in questo film c'è proprio la bambina che dice tranquilla, sto salvando il cane. E l'altro personaggio fiero. Ok, scena prima, letteralmente un'inquadratura da dentro la bocca del megalodonte che mangia persone, nemmeno una goccia di sangue, questa è una cosa un po' strana, però mangia persone che... una scorpacciata. Ma il cane non sia mai sempre in vita. Il cane non deve morire mai. Un cane c'era, un cane è rimasto. Ora, non sto dicendo che non vedo l'ora di vedere un cane morto sullo schermo o mangiato da uno squalo o robe varie, ma se dovete presentare sempre la stessa identica scena di questo cane che è protagonista di diverse inquadrature per far spaventare qualche cinofilo impazzito che se vede anche in un film morire un cane si uccide, non fatelo, non fatelo, perché è sempre la stessa identica scena e almeno dal mio punto di vista quella parte del film risulta ridicola e dire che quella parte del film è ridicola in un film del genere è veramente pericoloso, problematico. So che molti avranno già chiuso il video ma non me ne frega nulla assolutamente. Direi però di far chiudere il video anche ad altre persone perché adesso passiamo alla parte spoiler di questa recensione. Quindi se ancora non avete visto Shark 2 L'abisso uscite dal video e tornate solamente dopo aver visto il film perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Direi di parlare prima dei colpi di scena. Ho già detto quello dell'octopus del polpo superfluo all'interno del film totalmente. Poi un altro colpo di scena inutile ovvero la presenza di villain umani. Abbiamo questi 3 villain che sembravano bravi all'inizio poi si sono rivelati cattivoni oddio e abbiamo una tizia bionda che muore subito scena nel trailer spoiler a questo punto perché dopo che vedi la tizia vedi che comunque è un po' importante sai già che morirà perché nel trailer c'è letteralmente la scena e si capisce che non si sarebbe potuta salvare e poi abbiamo la brutta coppia di Evangeline Lilly la Wasp del Marvel Cinematic Universe famosa anche per Lost e poi abbiamo la fusione di Pedro Pascal Danny Trecho Johnny Depp e Mark D'Ammer letteralmente è la fusione di questi 4 cristiani tutti e 3 sono dei cattivoni oh mio dio e soprattutto l'ultimo è quello che viene ucciso dal megalodonte super amico di Jason Statham perché lui lancia sto tizio nell'acqua e il megalodonte non distrugge il molo non fa nulla ma prende solamente senza fare un danno a Jason Statham o all'isola in generale prende solamente in bocca il tizio cattivo ok poi l'incipit del film ovvero questo megalodonte piccolo in realtà cucciolo se non sbaglio cucciola è una femminuccia che è comandata da questo zio attraverso il click diamo per buono quel click fatto sta che comunque questo megalodonte è lì è comunque un megalodonte non è che sia un pesciolino che viene tenuto in questo posto con solo delle sbarre per chiudere i boh non so delle sbarre che infatti vengono distrutte subito al primo richiamo del megalodonte enorme questa questa megalodonte questa megalodonte questa meg scappa a un certo punto nel film c'è un accanimento strano verso i nerd verso le persone che collezionano action figure o che vanno al comic con in cosplay vabbè tra l'altro questi nerd muoiono anche in modo stupido poi c'è una tizia che implode sto continuando a dire tizi perché effettivamente non ricordo né i nomi né le facce e né soprattutto i rapporti chi fossero sti tizi qua di stepperstone non so assolutamente nulla poi che c'è altro da dire vabbè il polpo che effettivamente è quello che uccide uno dei due nerd quello che è collezione action figure che ha la postazione piena di action figure di squali vabbè la piovra appunto piovra polpo non ho ancora ben capito cos'è uccide questo tizio e poi piano piano si fa vedere sempre di più per poi diventare praticamente una giostra letteralmente non non sta vedendo nulla e con i tentacoli prende persone fa cose nella fan island alla fine e non ricordo nemmeno come venga uccisa probabilmente il solito cliché di uccisione di piovere giganti nell'occhio vabbè ok roba nell'occhio e quest'amore tentacoli tagliati si mangia sushi a tutta volontà poi sul finale appunto muore anche il megalodonte enorme quello che a questo punto penso sia lo stesso della primissima scena quella ambientata nel periodo dei dinosauri quindi sto tizio è milionario non nel senso che può comprarsi una villa a Malibu ma che ha più di qualche milione di anni sul groppone vabbè non so come abbia fatto a sopravvivere poi magari mi sono sbagliato non è lo stesso squalo non è lo stesso megalodonte ma fatemi sapere tutto con un commento muore in un modo alla Fast and Furious possiamo anche dire molto tamarlo per far vedere quanto è forte Jason Statham conficca da parte a parte partendo dalla bocca con un'elica o quello che è comunque e muore adesso così facile è veramente così facile no assolutamente no vista anche la grandezza che cambia di questo squalo a un certo punto è più grande poi diventa più piccolo la CGI ecco in questi momenti è più altalenante infatti le dimensioni cambiano spesso ma è stata una conclusione veramente troppo veloce solo perché non sapevano come andare avanti io non voglio vedere il terzo film cioè comunque lo vedrò sicuramente ma sono curioso di scoprire cosa faranno per esagerare ancora di più il tutto anche perché appunto i presupposti ci sono c'è il megalodonte che effettivamente ha seguito il comando dello zio cinese e probabilmente combatterà mangerà altri megalodonti dalla parte dei buoni dalla parte degli umani e potrebbe esserci qualche scontro Meg contro Meg qua abbiamo avuto lo scontro Meg contro umani e Meg contro Octopus a un certo punto ho visto quindi Sharktopus film che perché non lo conoscete mi chiedo ma ragazzi la recensione di oggi finisce qui fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Shark 2 l'abisso se volete fare spoiler mi raccomando non rovinate la visione a chi ancora non l'ha visto quindi scrivete un commento con spoiler enorme lasciate qualche spazio e poi il vostro messaggio così non diamo fastidio a nessuno vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di pampling codice il pensiero 4 per supportare il mio canale avere un paio di calze gratis e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao